benvenuti a tutti in questa nuova puntata di non è più domenica sono felice di essere qui con Rocco di Vincenzo per l'ennesima volta con voi parleremo di un personaggio molto molto interessante vorrei farlo introdurre a Rocco visto che ha questo questo aspetto British che potrebbe influire positivamente nell'introduzione allora abbiamo quest'oggi con noi Marco Ballotta nato il 3 aprile del 1964 a Caselecchio di Reno è calciatore che tutti noi ricordiamo per la carriera trentennale pressoché trentennale da Bologna dove non ha mai giocato pur avendo partecipato ai campionati di CBA alla fine l'ultima l'ultima apparizione tra i professionisti con la Lazio con cui ha fatto dei record di cui parleremo più avanti in mezzo una lunga carriera tra Emilia Romagna ha giocato praticamente in tutte le squadre dell'Emilia Romagna Modena Cesena Parma Reggiana e ovviamente Bologna non ha mai giocato al Bologna è stato è cresciuto nel Bologna e poi le importanti parentesi forse le più importanti quelle con Parma e Lazio oltre che un'annata all'Inter e comunque per altri visi forse non nemmeno tanto fortunato eventualmente avremo modo di parlarne con lui comunque a breve avremo qui con noi Marco Ballotta e sarà un grande onore e avevo cominciato con loro e sinceramente volevo continuare con loro a giocare a basket poi un dirigente mi chiamò perché andassi a giocare con loro allora andai a non dico a provare ad allenarmi ma non giocavo in porta assolutamente giocavo fuori ho fatto tutti i ruoli prima di rifinire in porta l'attaccante il difensore centrale una volta era il libero non era il difensore centrale li ho fatti un po' tutti il centrocampista poi in un incidente stradale il portiere diciamo titolare ebbe un brutto infortunio e non riuscì più a giocare a pallone e da quel momento lì l'unico che aveva un po' di caratteristiche ero io e quindi andai in porta e da lì un po' è partito il tutto nel nostro campionato giocava anche il Bologna mi videro nelle partite di andata e ritorno e mi chiesero di fare un provino per loro andai e ho fatto un paio di provini e mi presero subito da lì ho fatto tutta la trafila del settore giovanile come hai detto te non ho mai giocato però ho fatto tutte le panchini in A in B e in C senza mai debuttare e poi dopo è cominciato un po' così dopo ci fu un cambio di società da parte del Bologna venne Corrioni io ero già andato in prestito al Modena mi dietro in prestito al Modena arrivò Corrioni e tutti i prestiti che avevi in giro li ha lasciati decadere praticamente rimasi poi a Modena senza poter rientrare a Bologna ecco perché il presidente decise così in quel momento e quindi rimasi a Modena per sette anni devo raccontarti tutta l'altra fila ora ora ci arriviamo ci arriviamo intanto saluto il collega e scrittore Federico Terenzi grazie per essere qua con noi grazie a te Matteo un saluto anche a Marco Ballotta a tutti i tuoi ascoltatori Rocco partiamo partiamo da te ringrazio anche io Marco Ballotta un onore avere qui con noi una icona anche in questo caso una vera icona del calcio italiano capace di passare attraverso due decenni voglio dire due quasi tre considerando l'appendice nel tre i dilettanti comunque veramente una carriera infinita quindi si parlava del fatto del Modena post Bologna la non possibilità di esordire in Serie A nonostante le panchine poi l'esordio in Serie A col Cesena ad inizio anni ma a inizio in realtà fino anni novanta nel novembre del novanta e quindi questa esperienza sempre in Emilia Romagna come la ricorda questa prima esperienza in Serie A allora la ricordo molto positivamente io ero a Modena che quell'anno il novanta era a Modena che avevamo appena vinto il campionato di Serie C e siamo saliti in Serie B e che per dire nell'anno solare sono riuscito a giocare in C in B in A perché dopo andando a Cesena ho debuttato in dicembre sempre di quell'anno quindi ho giocato in tre categorie diverse solo in un anno solare ma a parte quello a Cesena c'era Antonioli che era proprietà del Milan e a Cesena non giocava al che chiesero di fare un cambio io che andassi a Cesena e lui venisse appunto a Modena ci fu questo scambio che a Cesena c'era Fontana Fontana l'ex portiere sempre del Cesena dell'Inter Gimmi Fontana esattamente sì Gimmi siamo Fontana andai lì e con l'accordo comunque che se ci fossimo salvati mi avrebbero riscattato e sarei rimasto lì io ero contento di andare a provare anche un'esperienza poi era una categoria importante come la Serie A e accettai debuttai appunto col Genova a Marassi in dicembre a fine metà dicembre mi sembra e per assurdo il debutto che feci in Serie A fu proprio a Genova e l'ultima partita in Serie A fu proprio a Genova contro la Sampdoria l'ultimo con la Lazio giocai proprio l'ultima partita di Serie A che è una casualità guarda che se uno ci va a pensare ci sono delle cose assurde però è stato così sì è stata un'esperienza positivissima dal mio punto di vista personale non ho giocato tante partite però insomma mi sono presentati in un palcosienico importante poi siamo retrocessi che allenatore era Lippi era Lippi uno dei primi prima squadra che ha allenato penso che non fosse la prima in Serie A che poi ritrovai successivamente che lui allenava l'Atalanta e quando mi vide mi disse guarda con te non mi sono comportato bene perché meritavi magari di giocare e questo mi dispiace mi disse così poi non so se è stato per quello ma poi mi prese all'Inter dopo tanti anni mi riprese a lui non so non penso per scusarsi probabilmente erano era una scelta che aveva fatto che con lo scambio poi di Peruzzi che Peruzzi venne da Lazio e io andai all'Inter però magari si ricordava di quel fatto e a fine campionato a fine campionato dovevo rientrare a Modena perché gli accordi che erano che se ci fossimo salvati sarei rimasto là dovevo rientrare a Modena a Modena invece c'era un attore che non che non mi volle come portiere io restare contro la voglia di un attore assolutamente no e quindi decisi di poi andare a Parma che da lì in poi è cominciata effettivamente la carriera un po' la mia carriera importante ecco da lì insomma dopo ho navigato sempre a quei livelli togliendomi togliendomi anche tante soddisfazioni ma andiamo avanti successivamente Federico io invece volevo chiedere a Marco Ballotta qual è il preparatore dei portieri a cui è più legato che gli ha insegnato un po' tutti i trucchi di questo merciere perché poi un po' per parafrasare i coppi insomma il portiere è un po' un uomo solo al comando cioè che comunque è tanto bistrattato questo ruolo ma poi alla fine dietro di lui c'è solo il gol quindi eh c'è la possibilità di non segnare o prendere gol quindi comunque ha un'importanza notevole anche nel nel nell'assatura di una squadra se c'è un preparatore dei portieri a cui è più legato che gli ha insegnato tanto nel corso della sua lunga carriera a parte che il ruolo è già cambiato adesso adesso si può anche segnare perché vedo che sono come prove dell'età esattamente e anche tanti altri domenica appunto anche un rigore che è stato causato cioè subito da un portiere in attacco esattamente stanno cambiando un po' un po' le cose no io sono legato un po' tutti dico la verità però è indubbio che il primo è quello che ha lasciato il segno il segno quello che ti ha creato come portiere ti ha insegnato tantissime cose che è Battara Pietro Battara Bologna dove l'ho avuto per tre anni e secondo me lì sono stati i tre anni fondamentali dove mi ha impostato effettivamente come portiere come tutte ha sfruttato no no e poi Marco volevo dirti anche questo che tu si vede che hai giocato in tanti ruoli perché tu anche con i piedi sei molto bravo cioè eri comunque molto bravo nel anche nel lanciare si vedeva proprio io ti ho seguito particolarmente io sono stato ho seguito la Lazio da vicino per tantissimi anni e e quindi sì sì comunque mi ricordavo che eri già molto bravo anche con i piedi forse anche questo ti ha aiutato eri già molto bravo no no ma ero già magari avanti ecco nel senso ero già la predisposizione dei tempi che che sarebbero arrivati cambiamenti io se se giocassi oggi per dire mi troverai molto a mio agio perché oggi si gioca tantissimo con i piedi però ricordiamoci sempre che portiere deve anche parare principalmente poi adesso sta cambiando veramente tanto il ruolo si gioca io penso il 90 per cento con i piedi portiere adesso veramente giocano tantissimo con i piedi sono chiamati in causa tantissime volte addirittura come come appunto parlava prima si spingono anche all'attacco quando c'è la disperazione del risultato e crei comunque confusione nell'area avversaria e adesso sono convinto che molti adotteranno anche questa questa soluzione come stiamo già vedendo marco colgo l'occasione che è uscito l'argomento per mostrarti una piccola sorpresa che ti abbiamo preparato ciao marco spero tu stia bene a metodi con te ce ne sono tantissimi tutti gli anni che abbiamo passato insieme dentro uno spogliatoio quello che mi piace ricordare di te l'anno dello scudetto nel momento in cui luca marcheggiani si è infortunato tu sei subentrato e ti sei fatto trovare subito pronto hai dato un contributo importantissimo per la vittoria dello scudetto sei sempre stato anche un uomo spogliatoio sempre una parola positiva per tutti e poi questo è un mio pensiero da allenatore io sono convinto che con la qualità tecnica che avevi con i piedi che avevi oggi saresti veramente un portiere ricercatissimo tutti i top club secondo me ti vorrebbero ti mando un grande abbraccio e speriamo di vederci presto grande pippo dico ci siamo divertiti quello che ha detto è un po' vero ecco mi sono ritrovato molto a mio agio in quella lasio perché appunto c'era c'era rispetto considerazione un po in generale ed è una cosa importante sì mi è capitato di subentrare marcheggiani quando quando si fece male per un periodo abbastanza lungo e come dice pippo mi sono non dico fatto trovare pronto fatto quello che sinceramente insomma sapevo fare se ero stato chiamato per fare il portiere dovevo solo solo fare il mio dovere ecco ed è stato fatto ma quello era un contesto importante perché c'erano veramente 20 campioni io mi ricordo un aneddoto che quando c'era la sosta delle nazionali rimanevamo in cinque a formello è vero gli altri un giro per le nazionali cioè facevano fatica anche a fare gli allenamenti perché per quella settimana lì non c'era veramente nessuno però dimostra il fatto che veramente era una squadra stellare quella a mio avviso abbiamo vinto tanto ma poteva vincere anche qualcosa di più marco proprio il riferimento a quello scudetto storico che avete vinto alla lazio io ti faccio una domanda un po controcorrente ti voglio parlare di quel pomeriggio poi che la vittoria dello scudetto con quanto successo a perugia in perugia juventus una sosta lunghissima molto spesso raccontato quell'episodio dal punto di vista dei giocatori della juve del perugia ma voi a roma come l'avete vissuta quel quell'intervallo infinito abbiamo vissuto in modo cioè abbiamo fatto più fatica in quel secondo tempo ad ascoltare la radio che tutta la partita perché non finiva mai arrivavano anche a parte l'ascolta la radio arrivavano notizie diverse false tu eri sempre lì in apprensione perché dico la verità la logica la cosa migliore era fare lo spareggio nel senso che loro avessero pareggiato andare agli spareggi e te la giocavi contro di loro però non è andata male anche così vincere sul campo è sempre meglio tutto un tempo ad aspettare il risultato di perugia è stato veramente una delle poche tensioni che ho vissuto nella mia vita non giocando ecco e anche ma non solo noi ma c'era tutto lo stadio pieno tutto tutti fosi ad ascoltare è stata una cosa surreale penso che non sia mai successo una cosa del genere e secondo te guarda marco secondo te marco perché quella partita non non fu sospesa rinviata e si decise comunque di andare un po contro il regolamento e farla giocare comunque forse perché era l'ultima giornata non se ne sono dette tanto voglio una tua opinione come l'avete vissuta voi anche ma perché era l'ultima giornata che doveva decidere qualcosa e poi si è stata giocata perché si poteva giocare l'albitro penso fosse collina mi sembra a perugia di conseguenza non era un arbitro di poco conto era forse il migliore anzi sicuramente il migliore che c'era in quel momento e si ha deciso di farla giocare perché si poteva giocare dopo alla fine perché sono andate così le cose ma quando e se è brutto il campo ma il campo è brutto sia per l'una per l'altra squadra poi ha sbagliato anche un sacco di gol di conseguenza insomma doveva andare così dai doveva andare così forse è giusto che sia finito così perché poi anche noi abbiamo perso Scudetti che magari meritavamo di vincere il calcio esattamente ed era un'altra beffa se non fossimo riusciti a vincere almeno in quell'occasione ci sono state occasioni che purtroppo è girata male per noi penso che sia meritato strameritato quello Scudetti guarda Marco a tal proposito certo a tal proposito volevo dirti questa cosa Marco allora io eh ho seguito appunto sono stato direttore di una televisione che parlava di Lazio per oltre dieci anni sono stato speaker ed ero il quattordici maggio del duemila ero proprio su uno di quelle persone che erano allo stadio olimpico quel giorno e abbiamo vissuto questa attesa incredibile e guarda colgo l'occasione tanto poi ci vedremo con Matteo eh perché eh noi dobbiamo vorremmo fare un progetto insieme ma gli voglio proporre anche di anche fare un film o una docu serie su questo questo è un mio sogno me lo sono ripromesso e ti racconto anche questo episodio mistico Marco che mi è capitato a me personalmente io ho una famiglia di tutte di tifosi laziali eh mio nonno e tutti quanti che cosa successe in quell'anno lì che noi eravamo eh praticamente a nove punti dalla Juventus a sette giornate dalla fine quindi no eh la Lazio pare gioco la Fiorentina tre a tre lì la Juve vinse con l'Inter due uno e andò a più nove quindi sembrava veramente una cosa di finita però eh che cosa successe quel giorno io andai a trovare mio nonno eh al ehm al cimitero che era scomparso tanti anni prima e e e poi andai anche alla tomba di Tommaso Maestrelli che si trova a prima porta e praticamente quella notte stessa e questa è una cosa che poi mi è rimasta impressa praticamente io sogna il mio nonno e Maestrelli e parliamo di aprile quindi doveva ancora insomma giocarsi sette partite di campionato e che mi presero per mano lungo eh quel viale di del di prima porta e mi dissero tranquillo Federico ce l'abbiamo fatta io mi sono svegliato di soffiato da quella da quel sogno me lo sono tenuto e poi alla fine è arrivata quella rimonta incredibile culminata con questo eh che è il lo scudetto più incredibile merita di essere raccontato perché nessuna tifoseria al mondo ho ho studiato bisogna da vedere ha dovuto aspettare un tempo intero anzi quasi un'ora per poter festeggiare poi eventualmente lo scudetto non è mai successo è un film questo cioè un thriller una cosa dove comunque si potrebbero coinvolgere anche tantissimi giocatori dell'epoca perché anche la Juve era pienissima di campioni anche quegli anni eh solo per citarne qualcuno insomma del Piero Zidane eh c'erano comunque tantissimi giocatori ecco qua questa è la Lazio comunque ma è una cosa semplice regolare normale con la la Lazio ha sempre cose particolari eh sì no no ma infatti io penso che il film ci starebbe tutto perché assolutamente e sicuramente ti coinvolgeremo Marco sicuramente ti coinvolgeremo insomma questo è poco ma sicuro eh allora si è parlato tantissimo della Lazio ovviamente ci siamo fermati all'esperienza Lazio e volevo sapere quindi eh basandomi sul fatto che diceva poco anzi Marco che è stata una grande esperienza e quale altre esperienze è stata altrettanto importante se c'è un'altra esperienza altrettanto importante realmente nella lunga carriera e quindi se se possiamo in qualche modo mettere una sorta di classifica fra le tante esperienze quale metterebbe in cima e quali sotto ma ma guarda le esperienze ce ne sono state tutti gli anni perché anche l'avvento a Parma per dire dove c'era il direttore sportivo Pastorello che avevo avuto a Modena mi aveva preso a Modena nell'84 poi lui andò a Parma e mi telefonò per appunto se avessi l'intenzione o la volontà di andare a Parma io subito eh ci pensai un attimo perché ho detto ho giocato poca Cesena vado a Parma perché c'è Taffarel magari gioco poco anche là e quindi volevo andare a giocare poi dopo c'erano state altre richieste che magari non 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 mi non mi aggradevano cioè non 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 ero felice di di andare quindi accettai anche perché era vicino a casa Parma insomma accettai e inizialmente non giocavo il mister Scala non mi faceva giocare neanche in Coppa Italia al che al che andai da lui gli chiedi guarda mister io così non ci sto voglio andare a giocare e lui disse sì sì va bene troviamo una soluzione qua vicino così ti seguiamo solite scuse così ti seguiamo e e va bene decidemmo così questo era il mercoledì era il periodo di mercato che all'epoca c'era ancora ottobre novembre il mercato ed era ed era in quel periodo quindi questo era il mercoledì giovedì che parlai con lui no forse il mercoledì dopo la Coppa Italia che non giocai esatto alla domenica andiamo a giocare a Cagliari la domenica andiamo a giocare a Cagliari dopo dieci minuti Taffarel si fa espellere con un fallo di mano fuori dall'aria al che dovete entrare in campo entra in campo punizione da limite dell'aria calciano prendono il palo bene dopo nell'arco della partita faccio due tre interventi diciamo decisivi importanti finisce 0-0 la partita la settimana successiva c'era il ritorno di Coppa Italia che penso col Poggio mi ricordo se era il Poggio o meno mi fece giocare mi fece giocare quella partita e rimasi a Parma giocai tutta la Coppa Italia e vincemmo la Coppa Italia con la Juve la prima Coppa Italia del Parma e la vincemmo in finale con la Juve per dire cosa può cambiare in una carriera gli episodi che magari non pensi e fu la scelta giusta andare a Parma ma legata anche a questa a questa situazione che magari non puoi pensare se no avrei fatto un altro forse tipo di carriera se fossi andato a giocare in Serie B da altre parti però io penso che comunque quando uno ha una ha fatto determinate cose perché dovevano andare in quel modo ecco poi dopo quando sei chiamato comunque in casa devi comunque farti trovare pronto e io sinceramente le volte che sono stato chiamato in causa mi sono stato mi sono fatto provare sempre pronto ecco poi dopo la vittoria della Coppa Italia l'anno successivo diventai titolare con Taffarel neanche in panchina perché c'erano ancora i due straniere extracomunitari che potevano giocare quindi avevamo Brolin Aspriglia e appunto Taffarel che erano extracomunitari e il mister decise di far giocare Aspriglia e Brolin non fece il titolare sempre tutto l'anno e quell'anno l'anno successivo vinciamo anche la Coppa delle Coppe arriviamo terzi secondo e terzi in campionato insomma Parma è stato è stato una tappa per me fondamentale importante per la mia crescita ma per arrivare ad alti livelli ecco dopo dopo da Parma sì per l'ultimo anno litigai un po' con tutti non con tutti perché arrivo a Bucci e io io andai via rimasi un anno appunto con Bucci poi non ci troviamo bene non dico su accordi prese ma su promesse fatte ecco diciamo così dopo ho cominciato ad andare a Brescia poi a Reggio e poi da Reggio dopo sono sono venuto alla Lazio perché io penso che Zoff vide una partita di Coppa Italia che io giocavo a Modena giocammo a Roma Lazio-Modena e vincemmo tre a uno contro la Lazio quella Coppa Italia e probabilmente Zoff che all'epoca appunto era l'allenatore prima e presidente dopo forse si ricordò di quella partita e mi prese a Roma. Rocco prego. Allora volevo chiedere quindi stiamo un attimo parlando delle esperienze importanti Lazio-Parma una più breve ma che sicuramente in una compagine storica come l'Inter una stagione anche un po' sfortunata con l'esonero di Lippi dopo la prima giornata la sconfitta contro la Regina come fu quell'annata che ricordi ha qualche aneddoto magari da raccontarci? Sì anche per dire l'avvento anche all'Inter io non volevo andare via dalla Lazio è stato l'anno appunto dello scudetto dove ci fu questo scambio tra me e Peruzzi ecco io andai all'Inter e Peruzzi venne venne a Roma io avrei firmato in bianco per la Lazio come avevo detto anche a Zoff io sto qua mettete voi la cifra non è un problema però c'erano delle esigenze ben precise quindi comunque non è che fossi andati in un club di secondo piano ero un po' curioso di vedere l'organizzazione ecco dell'Inter cosa che mi lasciò un po' stupito perché ce n'era poca sinceramente parlando era tutto fatto al momento invece pensavo che in una grossa società come poteva essere l'Inter era un po' tutto organizzato tutto preparato invece era tutto al momento si acquistavano i giocatori se servivano magari senza programmazione mi lasciò un po' così poi fu un'annata sì un po' negativa perché sono successe tante di quelle cose che negative dal motorino se ci ricordiamo che buttarono giù la curva dalla eliminazione della coppa UEFA ma queste seconda ai preliminari di Champions eh siamo stati siamo usciti dal Helsingborg da una squadra dal Helsingborg 0 0 1 a 1 abbiamo pareggiato e ricorda l'ultimo sì sì all'ultimo secondo e fumo eliminati andammo in UEFA eh però anche lì perdemmi in casa non mi ricordo che squadra divertero tutti i seggiolini della tribuna li buttarono in campo fu un'annata veramente un po' delicata una bomba no ci incendiarono il pullman all'entrata di di una partita appunto a Milano cioè sono successo un sacco di cose negative quell'anno però insomma è sempre stata un'annata che comunque tutte le annate vanno vissute poi ci sono quelle positive e negative ma anche quelle negative ti devono comunque lasciare qualcosa per la tua crescita anche se ero già grande però insomma ho imparato tante cose anche in quell'annata spavorevole allora ti volevo chiedere eh qual è il portiere più forte secondo te con cui hai giocato e qual è quello che ti piace più di oggi del calcio moderno ma più forte vabbè a parte dico anche Marchegiani ma penso Peruzzi Peruzzi perché nonostante fosse a fine carriera io non so come facesse a non allenarsi mai e a giocare sempre quei livelli poi io devo sempre star pronto perché ad ogni rinvio c'era c'era un problema poteva essere sostituito io mi ricordo un aneddoto in un derby appunto in un derby che lui andò a fare riscaldamento pre partita stava iniziando quasi la partita venne su nello spogliatore per cambiarsi per entrare in campo arriva lì da me Marco vai in campo perché io non ce la faccio come hai fatto riscaldamento sei venuto e stai andando in campo io mi misi i guanti e andai in campo direttamente senza fare riscaldamento e niente appunto in un derby con lui veramente ogni volta che perché aveva subito tanti quegli infortuni poveretto che non ce la faceva più fisicamente era proprio un mantenimento eh anche negli allenamenti veniva fuori a fare allenamento specifico da portiera rarissime volte e non sapevo come potesse fare a stare a quei livelli nonostante non si allenasse e forse lui è stato quello veramente più bravo con cui ho giocato invece anche come persone come persona perché anche come persone più forte attuale più forte attuale il nostro campionato no in generale che ti piace di più a te non non per forza il più forte uno che ti piace a te ma è che ci sono a me piaceva molto Alisson per dire però anche lui ha avuto degli alti e bassi non c'è un portiere oggi che è costante ci sono ma può essere anche megnante milan a me piace però ogni tanto anche lui anche se penso che sia quello più regolare oggi provvedele tantissimi io penso che ognuno abbia le proprie caratteristiche io rivedermi qualcuno oggi è cambiato è cambiato tutto ci sono tanti tanti portieri dico provvedele perché è bravo coi piedi bravi in porta è abbastanza completo poi quando le cose vanno bene tutto ti riesce bene per lui è dimostrato veramente una crescita importante dall'anno scorso che si è che è entrato e da quando è entrato non è più uscito per meriti non mi aspettavo fosse così bravo perché fino all'avvento della Lazio ok ha fatto vedere qualcosa gli ultimi due anni ma prima era un portiere normale poi è in dubbio che ce ne sono tanti che se non gli dai l'occasione magari fai fatica anche a scoprirli il vicario stesso che è andato a inghilterra e sta facendo cose cose pazzesche insomma vuol dire che il nostro i nostri portieri non sono poi così scarsi come come li fanno ecco perché vedo che anche all'estero non è che ci siano tutti questi fenomeni e adesso a livello di portiere a livello nazionale nostro a livello italiano incominciano a crescere portieri interessanti molti interessanti i giovani si stanno facendo notare ed era un pezzo che questo non accadeva ed è una buona cosa non mi non mi non mi vedo dico prova ed è dico prova ed è un poche ma tu che idea ti sei fatto invece di gigio donnarumma che è sempre stato molto esaltato dalla stampa però al di là di meriti che sono evidenti è anche uno che compie tanti errori sia con i piedi ma anche soprattutto sui tiri da fuori tu che che idea hai di lui ma lui è partito molto presto nel senso che è stato esaltato inizialmente ma per meriti perché ha 16 anni deputato in serie a e poi ha fatto vedere quello che ha fatto vedere adesso ha 23 24 99 cosa 24 25 anni e ha già un'esperienza ma da veterano come se fosse un trentenne si è già fatto un sacco di esperienza secondo me è solo un problema di concentrazione concentrazione perché lui ha dimostrato di avere capacità cioè di avere anche tecnica diciamo poi la sua stazza fisica può arrivare ovunque è rapido nonostante essendo alto secondo me è solo mancanza di concentrazione poi è indubbio che lui anche forte mentalmente perché commettendo tanti errori si fa condizionare poco ricomincia come se nulla fosse poi alla lunga anche lui insomma deve trovare un po più di continuità deve eliminare tanti errori ma ripeto sono tutti errori dovuti dalla concentrazione che probabilmente in questo periodo non è più come concentrare come prima perché ne sta commettendo troppo troppo ogni tanto si sbaglia sempre perché ogni tanto qualche errore capita però nell'arma te guardo lo stesso Nana ha fatto un cambiamento inverosimile cioè dall'anno scorso da un campionato con l'Inter di altissimo livello a quest'anno con il Manchester che non ne azzecca una poveretto e la testa fa la differenza devi solo trovare ritrovare se stesso anche lui come del resto anche Donnarumma perché se no l'abbiamo visto quello che ha fatto in questi anni di conseguenza non può essere peggiorato eh tutti in una volta assolutamente prima Federico e poi Rocco ecco eh Marco volevo volevo chiederti eh lì dietro di te vedo tanti palloni ma anche qualcuno di pallavolo ma hanno un legame particolare lì vediamo dietro di te oppure c'è qualche qualche cosa che tu hai conservato nella tua carriera che ti custodisci gelosamente a cui sei legato no non costruisco niente gelosamente c'è solo il pallone della champion quello sì che 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 l'ultima partita a Madrid ha consentito anche di me lo ricordo di avere un record a cui sono anche molto legato perché non è di poco conto giocare fino all'età che ho giocato io togliendomi queste soddisfazioni quindi quello lo tengo custodito diciamo che lo custodiamo lì lo tengo lì vicino Rocco richiesto a ridosso del della domanda precedente quindi se lei fosse allenatore il ct della nazionale donna rumma sarebbe il portiere titolare ma il portiere titolare lo metterei vicino ad altri lo metterei vicino a Vicario lo metterei vicino provvedele e poi chi al momento sta meglio farà giocare quello più in forno dico la verità in più bisogna poi capire anche all'interno della stessa squadra perché ok gli errori ti possono condizionare però se tu hai la presenza il carattere e riesci ad avere fiducia nei tuoi compagni gli errori non dico che passano in secondo piano ma è più importante avere la fiducia dei compagni che magari di un errore in più commesso Marco molto spesso il ruolo del secondo portiere che tu hai fatto diverse volte viene sottovalutato quando secondo me è molto complicato io c'è c'è un portiere che a me piace molto e che non gioca titolare che secondo me dovrebbe essere il gioco nazionale che è Mattia Perin cosa ne pensi? Ma può essere un altro di quelli però non giocando cosa fai? Scegli quelli che magari giocano con costanza cioè perché è normale che sia così difficilmente può essere capitato raramente ma è capitato di convocare anche portieri che che magari non erano titolari non sono titolari nelle proprie nelle proprie società nelle proprie squadre Perin è un affidabile è un affidabile però al momento vedo il Donnarumma vedo il anche Vicario stesso e il Provedel che hanno un qualcosa in più da questo punto di vista perché giocando hai anche l'occhio più più della partita insomma sei più allenato ecco poi indubbio che il ruolo del secondo è sempre delicato perché sei chiamato in causa magari poche volte le poche volte che sei chiamato in causa devi far bene obbligatoriamente altrimenti dopo ti considerano non ti considerano effettivamente per quello che sei se magari vai incontro a qualche errore perché magari non hai più la possibilità di rifarti vedere notare o non hai un'altra occasione se nell'occasione che hai vai bene allora sei considerato in un modo se fai un piccolo errore sei considerato in un altro secondo me è un po' troppo frettoloso ecco questa questo questo giudizio certo certo allora Marco chiudiamo e poi ti liberiamo con un giro di domande parto io e ti chiedo ho visto che poi quando sei sceso di categoria alla fine della tua carriera hai giocato da attaccante e anche decisamente bene a quei livelli l'avevi fatto l'hai detto anche tu prima anche in precedenza allora ti chiedo non è che sognavi di fare un altro ruolo e perché sei andato a giocare in attacco quando sei sceso di categoria ma perché mi è sempre piaciuto come come abbiamo detto prima con i piedi me la cavavo bene negli allenamenti spesso giocavo fuori con gli altri nelle partitine giocavo spesso fuori e quindi facevo la mia figura anche anche con gli altri anche con certi giocatori e mi divertivo perché ogni tanto devi anche un po' toglierti dal ruolo che hai abitualmente e poi adesso come adesso giocare le partitine ti serve molto perché a quei piedi devi trovare anche soluzioni al momento perché non sempre hai la possibilità di giocare liberamente senza avversario davanti a volte ti trovi anche in condizioni che puoi avere l'avversario davanti devi sapere cosa fare soprattutto se devi pensare prima perché un portiere adesso deve essere non dico anche centrocampista però deve avere una visione di gioco quando ti arrivi il pallone in mezzo ai piedi prima che ti arrivi devi già sapere cosa fare e penso che anche le partitine siano allenanti perché se ti arrivi il pallone non sai ancora cosa fare magari ti arriva un avversario a pressarti ti trovi in difficoltà e quindi un allenamento dico quindi ti tu preferisci e sei felice sei felice la risposta lo so però preferisci e avresti preferito giocare in attacco o no oppure no 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 anche perché io intraprendevo il ruolo del portiere anche in questo modo mi piaceva molto giocare mi divertivo quando mi passavano indietro il pallone era un completamento il ruolo del portiere bellissimo delicato e deve avere un determinato carattere per fare il portiere poi dopo per me è completo ecco perché gestisci la difesa il discorso è dare fiducia ai tuoi compagni se si sentono tranquilli tu lo senti per per me è importantissimo va bene che abbia fatto il portiere non è che penso di adesso mi si è tolto qualche soddisfazione però me ne sono tolte anche dopo perché mi piaceva giocare fuori fuori e non dico che ho coronato un sogno no mi sono divertito per 5 6 anni giocando giocando all'attacco divertendomi perché a me piace anche correre non riesco a stare fermo a me piace ancora tutt'ora gioco ancora tutt'ora faccio le partite ancora 11 in campo grande perché sto bene fisicamente perché mi diverto un po marco che faceva una partita in porta uno in attacco allora e federico poi rocco e poi ti salutiamo allora io ho due considerazioni da fare con te marco allora appunto due parlato di divertimento e il settore i settori giovanili insomma per rilanciare anche il calcio italiano ci siamo qualificati agli europei manchiamo dal mondiale da due edizioni probabilmente nei settori giovanili servono più maestri di calcio che professori cioè bisogna eh soprattutto a un'età giovanissima divertirsi quindi di fare le giocate cioè andare nell'uno contro uno eh ritrovare quella che è la vera essenza del calcio e soprattutto quanto è importante anche l'educazione delle famiglie dei genitori che spesso sono esasperanti esasperati ma soprattutto quindi servono più maestri di calcio che professori cioè secondo me non ci puoi parlare di tattica a un bambino di otto nove anni deve comunque divertirsi e deve esprimersi al meglio quelle che sono le sue potenzialità al suo estro sono d'accordo su tutto perché oggi siccome anch'io ho una società con tanti bambini e le problematiche le problematiche sono sempre queste io preferisco che 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 veda la crescita di un bambino eh durante la stagione che magari vincere un campionato invece oggi si si pensa molto anche tanti allenatori pensano molto a se stessi a far vedere il gioco a far vedere poi le vittorie e magari non crescono magari vinci perché hai già un organico di buon livello però non vedi la la il miglioramento di questi ragazzi a me non piace infatti con alcuni sono un po' in contrasto perché pensano in un modo ma io voglio determinate cose altre cose assolutamente poi la vittoria fa sempre fa sempre bene i genitori sono un'altra nota dolente dolentissima perché in ogni caso vedono il ragazzino come già un campione se sta fuori una partita su subito lì a chiedere un incontro perché mio figlio non ha giocato ne ha giocate 20 non ha giocata una vengono a chiederti perché non ha giocato quella partita lì non 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 li vedo che si divertono io io parlo sempre con i genitori ma suo figlio è venuto a casa si è divertito è contento se è contento ho raggiunto il mio obiettivo assolutamente se deve venire a casa con che è malcontento non si diverte più che altro arrivano a casa che i genitori gli fanno a testa così perché fanno gli allenatori anche da casa non fanno il genitore gli vanno a spiegare dove fare questo dove fare quell'altro gli danno insegnamenti sbagliati c'è già un allenatore e il settore giovanile passa tanto da allenatori bravi non perché ancora funziona l'amico dell'amico magari ci sono allenatori che sono lì perché conoscono non va bene non va bene e io dico sempre che noi facciamo dilettantismo però la differenza tra dilettantismo e professionismo sono solo il numero degli allenamenti che fai perché magari nel dilettantismo ne fai due tre nel professionismo ne fai cinque o sei più il livello dell'allenatore se l'allenatore è bravo vedi subito la crescita del cambiamento del ragazzo poi c'è quello che ha qualità qualità poi quelli su cui non puoi farci niente non ci puoi fare niente però si devono divertire e sono queste secondo me le basi come allenatori che spiegano la tattica come dicevi te la tattica fanno in tempo a spiegarla cioè a capirla non è un problema prima devono crescere anche tecnicamente mentalmente devono confrontarsi con altri prima ci sono tante altre cose ecco prima della tattica poi c'è anche la tattica la tattica è un gioco da grandi voglio dire se insegna la tattica a otto anni arrivano arrivano a 15 che sono già stanchi cambiano mestiere cambiano sport come anche giusto fare tutti gli sport prima di arrivare a scegliere il calcio come è giusto fare anche tanti ruoli per capire poi quale sarà il tuo non già dedicargli un ruolo ben specifico e lo metti in quello per tutta la carriera magari quello sbagliato non è giusto devono farne mille come io guardo il mio esempio io li ho fatti tutti prima poi dopo casualmente è andato casualmente che poi non sono casualità perché poi se fai un determinata cosa perché dovevi farla Rocco concludere quindi eh abbiamo parlato in qualche forma del futuro il nostro futuro i nostri giovani torniamo al passato dato che la mission di questo progetto è comunque il calcio nostalgico il calcio tantan la top 11 di Marco Ballotta dei giocatori con cui ha giocato tanti campioni hanno condiviso il campo con Marco Ballotta quale sarebbe la sua top 11 la top 11 11 sono pochi c'è c'è anche la panchina e anche mettiamo pure la panchina ma la top 11 per dire puoi fare quello della Lazio poi non è detto perché ce ne sono stati anche tanti altri perché ho avuto anche la fortuna di giocare all'Inter con Ronaldo eh che magari li metti tutti insieme ma tutto un top 11 possiamo partire da Peruzzi eh la difesa della Lazio penso che sia l'ideale e poi c'avevi Verona, Jugovic il problema è che a farne solo 11 dopo ne lasci fuori che altrettanto potrebbero giocare senza problemi anche al posto di questi fai fatica ecco a farne solo 11 assolutamente non non vorrei fare dei nomi per non lasciarne fuori degli altri ecco perché secondo me ho avuto la fortuna di giocare veramente con tanti tanti campioni però penso che l'11 della Lazio ma non è poi solo l'11 ma ero un 15 o 16 della Lazio perché veramente giocava a Vieri non giocava a Salas giocava a Nedve non giocava eh con se sa o non so ecco lasciare fuori alcuni giocatori fai fatica fai fatica quello che è squadra è poca Marco quello che è certo che di questa top 11 probabilmente il numero 12 saresti stato tu permettimi di dirtelo sicuro sì sì numero 12 sì 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 sicuramente perché penso di avere quelle qualità giuste ecco per essere anche titolare dico anche titolare ma allo stesso tempo posso essere il sostituto ideale ecco Rocco hai qualche altra considerazione bene così Marco noi ti ringraziamo infinitamente per essere stato qui con noi speriamo di riaverti presto magari per parlare anche di qualcuno dei grandi calciatori con cui tu hai giocato grazie a voi ok ci risentiamo ciao a tutti grazie Marco buona giornata ciao ciao a tutti voi ciao ciao e questa chiusura di puntata la farei anche con la presenza del caro amico Federico Terenzi abbiamo parlato di tante cose se ne potevano dire altre tante è sempre molto difficile in questa oretta che abbiamo a disposizione parlare di tutto io ringrazio te Matteo ringrazio Rocco e insomma ringrazio anche Marco Ballotta è stata un'ora molto bella a parlare di di un calcio che è cambiato profondamente ma che appassiona ancora e appassionerà per tutta la vita milioni di persone perché ricordiamolo sempre il calcio e dei tifosi e Federico per salutarti che poi rimaniamo un attimino io e Rocco ti volevo chiedere qual è la cosa che rimpiangi più del calcio che fu il rapporto umano che c'era anche fra i giocatori e la e i tifosi prima i giocatori andavano nei club e ho visto tra le altre cose su sky all'improvviso rombo di tuono di Riccardo Milani su Gigi Riva eh dove praticamente quel Cagliari lì andava in tutta la Sardegna a mangiare con con i tifosi parliamo di una squadra incredibile che poi vinse lo scudetto nella stagione sessantanove settanta e era ecco questo è quello che rimpiango c'è troppa barriera troppo business troppa distanza bisogna ritrovare quel calore umano e quella dimensione perché il calcio è della gente. Grazie a Federico Terenzi giornalista e scrittore è stato molto piacevole passare del tempo con te. Grazie a te Matteo grazie a Rocco e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Grazie di cuore. Ciao. Una buona giornata. Rocco chiudiamo una nuova puntata molto interessante ci sarebbero state tante cose da dire non è mai facile come ho detto riassumere tutto così brevemente eh Inter, Lazio, Parma, Cesena, Bologna e tante altre cose sicuramente poi una carriera lunga come quella di Ballotta che ha giocato mh fino forse a cinquanta anni non lo so eh considerando anche le ultime esperienze nel calcio di serie inferiori eh sicuramente un viaggio straordinario un personaggio incredibile e e a questi sono i personaggi che ci piacciono perché molto spesso ci soffermiamo sempre a pensare ai big ai capocannonieri e invece magari sai questi calciatori che fanno delle carriere incredibili ricordiamo sempre che arrivare ai livelli di un Cristiano Ronaldo è difficilissimo ma arrivare anche ai livelli di Marco Ballotta è una cosa molto complicata. Come no, come no, possiamo farci un rapido calcolo in una serie A composta da diciotto squadre anche se adesso non sono diciotto eh ci sono venti giocatori quindi venti per diciotto fa quanto fa? Matteo fa intorno ai quattrocento quelli sono i calciatori che arrivano in serie A quindi quattrocento su tutti quelli che ci provano capiamo bene che è un numero ristretto di privilegiati ad ogni modo veramente una carriera così lunga che per me è stato anche difficile trovare domande adatte tra le tante che avremmo potuto fare ho chiesto la top undici avrei voluto sentire una top undici giusto perché quello è il nostro format purtroppo non c'è stato dato proprio una vera top undici però un po' si è sbilanciato perché un pochino ha mostrato di essere dentro un dieci più dieci laziali più Ronaldo questo ci è sembrato comunque voglio ricordare il fatto che Ballotta oltre al record in Champions League è anche il record del giocatore più anziano ad avere mai giocato in serie A con 44 anni e 38 giorni quindi veramente record importantissimi che difficilmente verranno anche eh superati in tempi rapidi nonostante le carriere si spostino più là stiamo parlando veramente di età avanzatissime quindi veramente abbiamo avuto un'icona eh ripeto l'ho detto per Hubner non per Porrini eh si si usa il termine spesso a sproposico ma in questo caso abbiamo avuto veramente un'icona ed è stato eh purtroppo forse troppo poco il tempo eh a disposizione per una carriera trentennale certo ragazzi ci vediamo prossima puntata con un altro personaggio che ci ha fatto sognare grazie a Rocco e alla prossima grazie a te Matteo a presto ciao